Ma che schifo Non guarda, girati Ok, te lo metto, dai, vieni Sono arrabbiato Mi hai fatto troppo a dire prima quando hai detto L'ho capito quando tu hai detto, oppure italiana Se non era italiano, era italiana Femmina Mi sono fregato da solo per fare una battuta di merda Ho perso un punto Due punti, siamo due a zero Sì, ma io un punto l'ho perso solo perché ti ho fatto una battuta E l'altro punto perché non sono neanche capace di barare Questa non la indovini, ma neanche se piangi in africano C'è un modo per piangere africano? Inizio io perché ho perso Eh certo Non so che portagliella in i serbi Allora, sono una donna? No Sono già un uomo Sono un uomo? Dai! Sono una donna? A tratti, sì A tratti Sei di nuovo? Cosa? È un uomo o una donna? È un uomo? A tratti sì, però è una donna Non me lo ricordo Aspetta che mi è venuto un Comunque sì, sei un uomo C'è una donna? Una donna Sono un calciatore? No Figurati se mi sceglie uno della Uber No, figurati E secondo te sono così stupida Avevo anche pensato di metterti Cristiano Ronaldo Ma posso mai metterti Cristiano Ronaldo? Eh no, invece mi va a mettere le persone difficili Vai, tocca a te È italiana? Sì Sì Italiana Adesso perché non lo avevi più? Eh, cosa vuoi fare la Ferragni? Sì, so che questo sguardo per depistare ormai ti conosco Stai zitta No, rovinare i posti Ma, ma Tocca a me Sono un biaco, lo sai? Io non so più niente Sono uno YouTuber No Maledizio Un cantante, sarò sicuro Sono un cantante Caro, non è una domanda alla volta prima di tutto Io ci ho provato È furbo lui Ho fatto uomini e donne E se non lo sei te? No, non hai fatto uomini e donne Sì, scaldami i piedi che ho freddo Però, voglio dire Il livello intellettivo di questa persona è da uomini e donne Cosa? Perché? Non è impossibile È impossibile che ti abbia già capito Ok, ok Quindi, sono un uomo Non sono uno YouTuber Sono un cantante Sì E andiamo Sono io? No Sì, sì, sei tu nel senso Certo, sei tu Sì Quella che ha scritto le fogliette sono io No, io te l'ho scritto Sono io Io te l'ho scritto, non te Dai, non ci ho confluti Non mi sa che te l'avevo già scritto Caggia di nuovo È vero che te l'avevo già scritto Cazzo lì Ebbè, tanto, io sono un cantante Sì Prima avevo barato Avevo visto Rock Quanto Quindi non me l'avrà messo No Dai Famoso in Italia Famosissimo Sì No Mi sono scufato Ultimo È il più famoso ora Ragazzi, mi sa che in questa challenge Arriverò l'ultimo Oh Mirko, ti giuro Sai quando ho capito che ero io? Quando tu vede Hai iniziato a prendermi per il culo Quello che sei donna A tratte Tu non lo direbbe mai su nessuno Ebbè, di notte Non direi che sei donna Perché ti ricerche scorregge 3 a 0 Mi ricordo di dire Sto perdendo 3 a 0 Ma ci rendiamo conto? 3 a 0 Almeno fammi fare un punto Ragazzi, io ho perso Perché prima dovevo fare La battuta di italiana Poi dovevo prenderla per il culo Quindi ho perso E la prima Ho barato e ho perso Ma che schifo Oh, il telefono Ma che c***o Sei il mio piccolo disastro Ma guarda, mi hai fatto ridere tu Ah, qua sta ancora andando Sta ancora andando il tuo Quando metto i pantaloni Mi sono manata tutta Bene ragazzi Alice ha avuto un piccolo incidente di percorso Guarda che mi sta per fare la guata ai piedi Nala Vai Muoviti Ok, vado Questo non è un personaggio molto virale Virale Piano Piano che c'è il cerchietto Non mi trarre schiaffoni Ok Nala Tieni Ok ci sono Ok ci siamo Non guardare È difficile Inizia tu perché portai a iniziare Il tram È un cantante Cosa? Cos'è? È un cantante? No Beh Nella vita come un lavoro Di professore No Non è un cantante Per caso Quello che noi vediamo da quella finestra C'entra con il Con la città di questo personaggio Lo vedi quello che vediamo Cosa vediamo noi? Cosa vediamo noi? Non so cosa vuoi fare Mi Mi No No Mi non ti specchia Dai mi veramente ritighiamo eh Guarda come si è messo Potatino Nonna Sembra il demoglio Comunque no Non c'entra con la città di Torino No no Non volevo fartela questa domanda Volevo solo dire Ormai l'hai fatta caro Allora Il mio personaggio È donna Sono una donna No Però Dipende da come Da come sono messi gli occhi Quando lo guardi Perché Mi Rispondi alla domanda È un uomo Ok Sono Una donna Sono una donna No Sono un uomo Non di Torino È un personaggio Fantastico È un personaggio fantastico Cioè Inventato È un personaggio fantastico Tipo l'altra Charles Ne hai messi tantissimo Rispondi alla domanda È un personaggio fantastico Cioè inventato Beh fantastico un po' lo è Devo essere sincero Però non è inventato Cos'è Non ci credo Non ci credo No no È un personaggio fantastico È una persona inventata Tipo Harry Potter No è una persona reale Troppo reale Forse ho già quasi capito Ma è Veramente Ne hai messi tanti Di termini Guarda come dorme Nala Sì Ho ciò che l'hai già detto Ma li hai messi tu Quei Sì Io messi Quei cartoni Tu devi sempre parare Io lavoro su Instagram Sì 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 Vai a vedere Comunque no Non vi va a torino Tocca a me È un cantante No È un ragazzo Giovane Ah sotto i 30 anni Facciamo così È sotto i 30 anni Mi sa che ne ha proprio 30 precisi O all'incirca comunque 29 30 31 È lì Non è che penso che sia Ne hai messi in più di anni Rispetto a quelli che lui ne ha O di meno Quanti ne hai detti? Ho detto Quanti ne hai detti? Ho detto 30 Ne hai messi di meno O ne hai messi di più Vai tocca a te E chi sono amore? Ho più di un milione di follower? Non lo so Sai se hai più di un milione Beh comunque È un calciatore Ma come siamo messi qua Che indovina così a caso? Perché Beh Può essere che sia un calciatore Rispondi Sì Dai Tocca a me Quindi ho più di un milione di followers Ho più di un milione di followers Sono un calciatore? No Lo hai chiesto No l'hai chiesto prima Dai non è giusto Gioco nel Barcellona Sono quei giocatori Che da piccoli Sai Non li hai messi già subito In delle squadre forti Non Ti sta a giocare nel Barcellona Ce ne hai messi di tentativi Per indovinare Che era nel Barcellona Sì dai Gioca nel Barcellona Sì sì Che ridi L'ho capito dal primo Messi Che hai detto Lo so Devo indovinare Cioè se indovino posso vincere Stepney No Luis Maledizioni 4 a 0 Che bello perdere E Messi 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 Questa challenge Sa perché sono nervoso Perché l'ho perso da solo Mi sono autodistrutto Facendo le battutine da deficiente No ma perché mi lanci i cerchietti Vabbè è una merda quel cerchietto Ma se davo veramente 30.000 lire al mio falegname me lo faceva meglio Se mi guarda che il mio falegname con 30.000 lire la fa meglio Bene ragazzi il video è finito qua Per questo video avremmo deciso che non c'erano penitenze giusto? Giusto? Invece sì che ci sono Ah ci sono le penitenze Eh niente ho perso Ho perso 4 a 0 Umiliazione Anche barando Anche barando C'è umiliazione Sei imbrassi Allora io penso che il video possa finire qua Ce ne abbiamo messi di minuti Comunque tutti voi che siete messi in collegamento Lasciate un commento Magari commentando anche hashtag messi Giusto per rimanere Ormai l'ha detto 3000 volte messi Comunque lei ha aperto un canale Di quelli noiosi sai Però non dire sempre Non si dice ma però Se tu dici sempre che è noioso Poi la gente veramente ci crede Invece il mio canale è bellissimo Lei ha aperto un nuovo canale divertentissimo Per niente noioso Dove fai video interessantissimi Di lei che si sveglia al mattino Tipo quelli che dice Ragazzi questa qua è la mia casa Questo è il bagno Dove cago piscio Questa è la cucina Dove faccio la pasta Sai interessantissimo Perché chi di voi non si sveglia al mattino Pensando vediamo un po' La casa di Alice Nel suo canale trovate tutte queste cose qui Interessanti Poi lei che fa tipo Pianta dei girasoli Perché giustamente No perché comunque loro Che sono lì messi nella loro casa Dicono Vediamo un po' come si pianta un girasole Vanno nel tuo canale Non è che dici vai nel canale Di un giardiniere No vai nel tuo canale Cosa c'è nel mio Nel mio iphone Nella mia borsa Non lo faccio quello Ok fine Nel video Che durerà 20 minuti Iscrivetevi anche al mio canale E poi se vi piace questa challenge Scrivetelo nei commenti Perché io voglio fare la quarta parte Vi diverto troppo È la sua preferita È la mia challenge preferita È vero? E vai a chiudere però Ah giusto sì Ciao Ciao Mi hai umiliato Lascia un commento Metti mi piace Cosa ti costa Perché sei capace La coppia che scoppia Se il video ti è piaciuto Lascia un commento E iscriviti al canale Tornata è la coppia che scoppia Sono come noi La vita di coppia Vissuta l'errore La coppia che scoppia È un'esplosione Virgo ad Alice Dentro il nostro cuore Ah